carissimi amici del canale youtube dentro la notizia quest'oggi parleremo di obbligo vaccinale con tutte le novità a livello mondiale spiegheremo perché pur dovendo fare ogni tentativo per impedire la più grande violazione dei diritti umani di tutta la storia in realtà non dobbiamo per nulla essere intimoriti perché partiamo da questa premessa il buon dio ci ha fatto dono di un grande e prezioso regalo il libero arbitrio la possibilità di scegliere cosa fare come agire nel bene o nel male ovviamente nel suo infinito amore ci ha provveduto alcune guide per esempio è innata in tutti gli uomini la coscienza quella vocina interiore che risuona dolcemente come un campanello d'allarme quando stiamo commettendo ciò che è male vocina che si fa sempre più flebile man mano decidiamo di non ascoltarla questo è il rispetto che ha il nostro padre celeste per la nostra volontà la nostra opinione e qui veniamo ai subdoli attacchi dei satanisti al potere in tutto il mondo che mirano a privarci del libero arbitrio della libertà di scelta addirittura della libertà di cura e di decidere cosa fare del nostro corpo e così in tutto il mondo gli accoliti delle diaboliche stanno introducendo degli obblighi per imporre determinati trattamenti sanitari è questo quanto sta accadendo negli stati uniti la society press riferisce giovedì il presidente joe biden ha annunciato ampi nuovi obblighi federali per i vaccini che riguardano 100 milioni di americani parlando alla casa bianca biden ha criticato asparamente i circa 80 milioni di americani che non si sono ancora vaccinati siamo stati pazienti ma la nostra pazienza si sta esaurendo e il tuo rifiuto è costato a tutti noi ha detto la minoranza non vaccinata può causare molti danni avete notato gli stessi duri toni accusatori verso chi decide di utilizzare il più grande dono di dio il libero arbitrio utilizzati dai nostri draghi mattarella da macron eccetera no chi ha venduto l'anima al diavolo non accetta che gli altri siano liberi di scegliere vogliono privarci del più grande dono di dio il libero arbitrio ma ce la faranno solo se saremo noi a privarcene volontariamente e vedremo perché nel corso del video il nuovo ordine esecutivo voluto dal deep state americano prevede che tutti i datori di lavoro con più di 100 lavoratori richiedano agli stessi che vengano vaccinati o testati settimanalmente per il virus anche i circa 17 milioni di lavoratori delle strutture sanitarie dovranno essere completamente vaccinati oltre all'obbligo vaccinale biden ha deciso di raddoppiare le multe federali per i passeggeri delle compagnie aeree che si rifiutano di indossare maschere sui voli o di mantenere le mascherine nelle proprietà federali durante il discorso di pochi minuti da buon cabalista biden ha già minacciato un terzo del paese dichiarando guerra agli americani non vaccinati esattamente come sta succedendo in italia e in altri paesi non vedete anche voi un'unica regia un unico modus operandi così colui che dovrebbe essere il presidente di tutti gli americani sta tentando di dividere il popolo fomentando l'odio tra free vax e vaccinati esattamente come fatto dalle più alte cariche italiane e come avviene in tutto il mondo sotto il dominio della cupola satanica joe biden ha concluso il suo discorso sussurrando inquietamente fatti vaccinare dopo questo bisbiglio raccapricciante si è potuto sentire un giornalista che chiedeva biden è costituzionale ma il burattino dell'elite inforca la via d'uscita e non risponde come la situazione nel nostro paese in italia al momento è obbligatorio solo per alcune categorie ma draghi intende procedere in modo spedito entro fine ottobre italia e francia sono due paesi che vanno molto d'accordo su questi temi e sembrano inseguire l'uno le idee dell'altro si legge in questo articolo a dimostrazione che vi è un'unica regia mondiale ma l'italia ha un primato speciale è stato infatti il primo paese a introdurre l'obbligo per i sanitari ad aprile seguita poi dalla francia la grecia vuole tutto il personale sanitario vaccinato entro la fine di settembre e nel regno unito a partire da ottobre sarà obbligatorio per gli operatori delle case di riposo da maggio in arabia saudita vaccinazione obbligatoria per tutti i lavoratori del settore pubblico altri paesi con l'obbligo vaccinale sono il kazakhistan gli stati federati di micronesia indonesia e turkmenistan nel kazakhistan vi è l'obbligo per i lavoratori nei settori dei trasporti della vendita al dettaglio e delle banche oltre che per i settori del turismo ricettivo dell'istruzione della sanità e dell'intrattenimento gli stati federati di micronesia a est delle filippine hanno reso obbligatorio il vaccino per i cittadini da luglio stessa scelta per l'indonesia dove il governo ha istituito l'obbligo di pari passo con la partenza della campagna vaccinale multe di 400 euro tenendo però conto che nel paese asiatico lo stipendio medio è di 250 euro mensili anche il turkmenistan dal 7 luglio ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il covid 19 per tutti i residenti di età pari o superiore ai 18 anni insomma l'italia una delle repubbliche delle banane in conclusione credo che sia sotto gli occhi di tutti o perlomeno di chi vuol vedere che è in corso una battaglia spirituale tra le forze delle tenebre e quelle luminose del bene si stanno per avverare le parole dell'apocalisse 16 2 che dice un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine e apocalisse 14 9 10 che conferma chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano berrà il vino dell'ira di dio questo vuol dire che chi riceverà il marchio sarà colpito da pestilenze atroci e non sopravvivrà ma vuol dire anche che le diaboliche elite non potranno costringere i popoli a determinati trattamenti sanitari perché priverebbero l'intera umanità del prezioso dono di dio il libero arbitrio inoltre non ci sarebbero sopravvissuti cosa impossibile e ancora gli uomini che fossero costretti con la forza a ricevere il marchio non potrebbero essere condannati da dio alla morte perché senza colpa e il diavolo fallirebbe nel suo intento per cui l'obbligo di terapie sanitarie non potrà mai essere forzato vi sarà sempre una via d'uscita magari semplicemente cambiando lavoro ciò non toglie che dobbiamo continuare a opporci fermamente a tutte le violazioni dei diritti umani delle libertà e a tutti coloro che pur dicendosi religiosi vogliono privarci del meraviglioso dono che dio ha fatto a tutti gli uomini la libertà di scegliere se prendere il marchio o rifiutarlo prima di concludere volevo ringraziare la kiani life che in collaborazione con la h price porta in italia l'innovativo depuratore basato sugli studi del grande ricercatore giapponese masaru emoto e del dottor willem reich l'unico depuratore che lavora sulla struttura biofisica dell'acqua cambiando i cristalli di h2o e irrobustendo il nostro sistema immunitario creando un campo energetico che trasmette tramite risonanza una nuova struttura armonica all'acqua la kiani life quando ha saputo che youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a superare i 110 mila iscritti e offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela del popolo purtroppo però le donazioni sono molto poche mettendo a rischio il nostro lavoro è particolarmente importante quindi in questo momento il vostro sostegno chi fosse poi interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite l'email in descrizione per essere avvisati sull'uscita dei nostri video iscrivetevi qui e su telegram mettete un like attivate la campanella e condividete il video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro roby